Giovedì 30 dicembre 2021, buongiorno, ben ritrovati, rieccoci con la rassegna stampa di 696 TV, insieme andiamo a leggere le notizie che potete trovare nei quotidiani quest'oggi in Edicola e poi la parte finale sarà dedicata al web con spazio al nostro portale 8pagine.it. In regia Aldo Fenizia, ecco tutte le prime pagine e iniziamo come d'abitudine dal Roma, lo storico quotidiano di Napoli. In apertura ovviamente c'è un ampio focus sull'emergenza pandemia da poi andare a leggere all'interno e allora il titolo è salto all'indietro per descrivere il forte balzo dei ricoveri, il loretto mare che torna Covid hospital, superpass esteso e bus con la terza dose, niente quarantena. E poi altre notizie in taglio basso nella prima pagina del Roma oggi in Edicola, l'impegno di Manfredi sarà anno della svolta, il sindaco ora cambio di passo. E poi barra droga scarcerato Giuseppe Bifano a seguire il questore, la camorra, il grave problema della città ed ancora torre annunziata, funerali di Antonio, la piazza, giustizia, battaglia alla città, non arrendetevi. In taglio alto invece c'è come sempre un richiamo allo sport, Napoli da oggi la Juve nel mirino, Spalletti fa la conta degli assenti, in cinque indisponibili Fabian e Lorenzo sono guariti dal Covid. Non sparate su Insigne, deve restare il capitano, firma Salvatore Cagliazza parlando della eventualità di un addio di Insigne alla volta della MLS del Toronto. E poi ancora cronaca, omicidio Matteo, pista, porta a San Giovanni, svolta nelle indagini sull'agguato a Ponticelli. Andiamo allora all'interno del Roma con pagina 2, emergenza pandemia, all'oretto mare, torna il Covid Hospital. Entro lunedì riattivati 50 posti di degenza ordinaria per i pazienti affetti dal virus. Napoli, ematologia e oncologia trasferite temporaneamente al San Giovanni Bosco, redistribuito il personale. La richiesta dell'unità di crisi a ospedali e ASL Verde Oliva è necessario garantire l'assistenza adeguata ai pazienti. Primo break con la nostra rassegna stampa. Su questo tema andiamo a vedere insieme il servizio di Simonetta Ieparielli. Punta dritto a quota 10.000 il numero dei contagi da Covid in campagna ed è da record il numero dei tamponi processati. 11.379 quegli esaminati che hanno accertato 9.802 nuovi positivi. Aumenta la pressione sugli ospedali, torna ad essere Covid Hospital, il Loreto Mare. Dal 3 gennaio il presidio infatti sarà esclusivamente dedicato alla cura dei malati coronavirus. Intanto il direttore dell'ospedale Santo Bono, Rodolfo Conenna, ospite di punto di vista del direttore Pierluigi Melillo, invita i genitori a vaccinare i bambini. È una vaccinazione molto sicura. È stata sperimentata ormai per 4 milioni di bambini tra Stati Uniti e Israele e le reazioni avverse che si sono verificate sono dei casi molto sporadici di miocardite, tutti risolti in 2-3 giorni. Il rapporto tra il piccolo rischio della vaccinazione e il rischio non grandissimo ma concreto della malattia è tutto a favore della vaccinazione. Intanto il Covid ferma treni e circum e mezzi pubblici, emergenza contagi anche in carcere, in campagna attualmente in sei istituti detentivi, Poggio Reale, Secondigliano, Santa Maria Capuavetere, Ariano Irpino, Salerno e Sant'Angelo dei Lombardi. Ci sono 86 detenuti contagiati e 45 agenti di polizia penitenziaria. Una vera e propria emergenza come rimarcano i garanti dei detenuti Samuele Ciambriello, Pietro Ioia, Emanuela Belcuore e Carlo Mele. I garanti chiedono soluzioni per assistenza e sicurezza dei contagiati nei penitenziari. E allora, rieccoci in studio e proseguiamo nella nostra rassegna stampa con pagina 3 del Roma. E si continua a parlare dell'emergenza pandemia con un focus sui ospedali e allarme rosso in 24 ore. 55 ricoveri, record di contagi, quasi 10.000, altre 11 vittime. In campagna il tasso dell'incidenza all'8,8%, mai così alto il questore di Napoli. Replica a De Luca, i controlli ci sono. In una settimana quasi raddoppiati i minorenni ospedalizzati, in intensiva il 71% dei non vaccinati. E nella Roma c'è ovviamente tanto spazio anche alle notizie dal capoluogo di regione e dai capoluoghi di provincia. Questa è una pagina di Napoli dedicata alla cronaca Manfredi 2022, l'anno della svolta. L'impegno conferenza di fine anno del sindaco, verde, trasporti, welfare, scuola e lotta all'evasione per la rinascita. Ora l'apertura della pagina dedicata a Napoli, pagina 9. Basta botti, sono pericolosi. E allora nel dettaglio andiamo a leggere insieme. Lo specialista del Pellegrini, massima attenzione, fuochi inesplosi, sono micidiali. E questo l'appello di Leopoldo Caruso agli irriducibili. L'assessore trapanese, usiamo la testa. E poi l'apertura della prima pagina dedicata ad Avellino. Niente più visite ai pazienti, Moscati blindato per Covid, l'azienda ospedaliera blocca gli ingressi in ospedale, il direttore sanitario Lanzetta, il Green Pass non basta, emergenza, contagi in continuo aumento in Irpini, a nuovi divieti dei sindaci. E poi c'è anche questa notizia di cronaca, fanno esplodere il Bancomat banditi in fuga con il bottino. Gesualdo, il vuoto avvertito la notte scorsa in tutto il paese, il bottino si aggira sui 50 mila euro. Una delle pagine dedicate a Benevento, Comune Gesesa, altri nove indagati in apertura. Tra le persone chiamate in causa per fatti del 2018, un assessore, un dirigente di un consigliere comunale, ambiente troncone, inchiesta su inquinamento, fiumi nel mirino all'affidamento come gestore del servizio idrico integrato. E poi la pagina dedicata a Salerno, corsa ai vaccini, da oggi scattano le prenotazioni e lotta ai medici Novax. Al Ruggi, 920 le diffide ai camici bianchi, molti però non possono ancora fare la terza dose. L'emergenza abbaperti anche la mattina dopo assembramenti, polemiche e tensioni, meno caos in città. E allora, dopo aver passato in rassegna diverse pagine, l'appuntamento è in edicola. Per quanto riguarda il Roma, noi ci spostiamo sulla Repubblica Edizione Nazionale. In apertura stretta sui Novax, lotta alla pandemia. È steso il Super Green Pass a treni, bus, alberghi, fiere e impianti sci. Draghi a gennaio sarà allargato ai lavoratori. Accolta la richiesta delle regioni, quarantena zerata agli immunizzati da meno di quattro mesi e a quelli con booster. Letta, ora obbligo vaccinale, unità sul Quirinale o rischia il governo. Legge di bilancio, passa la manovra dal fisco al bonus, tutte le regole per i cittadini. Il commento, il tempo della chiarezza, Francesco Beia, pagina 26. E poi l'analisi, una convivenza necessaria, Massimo Recalcati, a pagina 27. Ancora di spalla, redistribuire alla rovescia. Chiara Saracino, pagina 26. Cina, su Hong Kong, la morsa del regime. Chiude il giornale, pro-democrazia. Il direttore tra i sette arrestati, Pratik Lam, direttore di Stand News. C'è anche spazio per questa notizia che arriva dal corrispondente a Pechino, Gianluca Modolo. E poi domani il congedo in TV, l'ultimo discorso di Mattarella per la gente e non per il palazzo. E poi Patuelli dell'Abi, pericolo 2022, teniamo gli aiuti. La cultura, arriva il nuovo romanzo distopico di Hollebec. E poi meteo, capodanno tropicale, clima malato. E all'interno della Repubblica la speculare di pagina 2 e 3. Superpass nei trasporti e nuova quarantena. E' il lockdown dei Novax, varato il decreto per arginare la variante Omicron. Ieri nuovo record, 98 mila contagi. Dal 10 gennaio il certificato rafforzato servirà su treni, bus, ristoranti all'aperto e alle feste. E Draghi promette da gennaio al lavoro solo se vaccinati. Il retroscena è scontro nel governo, ma l'obbligo di superpass per dipendenti autonomi è solo rinviato. Quarantena, vincono le regioni, ma resta il nodo tamponi. E poi la vignetta di punto di svista, punto di svista di LK. Come funziona la quarantena breve? Lascia perdere, prima che riesco a spiegartelo, è già finita. E quindi, come sempre, brillante la sottolineatura del vignettista della Repubblica. Però noi continuiamo con pagina 4 e pagina 5. In primo piano ancora la lotta al Covid. Contagi boom, tagli alle corse dei treni per i pendolari. La stangata Omicron, con oltre il 10% del personale contagiato, trenordi in Lombardia e trenitalia in varie regioni cancellano le tratte. L'alta velocità e il traffico aereo per ora resistono. L'intervista a Lavecchia, il professor Carlo Lavecchia, bisogna correre con il booster o si rischia il collasso. I vaccini sembrano proteggere dai ricoveri. La terza dose aumenta gli anticorpi di 50 volte. E poi, letta sui vaccini e l'ora dell'obbligo, senza unità sul Quirinale. Il governo cadrebbe. Intervista al segretario del PD. Altri paesi ci seguirebbero sulla via dell'immunizzazione. Per tutti occorre anche tornare allo smart working. Le mascherine a 2 euro, uno scandalo. E poi il capo dello Stato non può essere eletto con una forzatura di una parte sull'altra. Draghi, uno dei nomi possibili. L'importante è tutelarlo. Il paese ha bisogno di lui. E poi il 2022 non può essere un anno elettorale impensabile. Cinque mesi di voto di potere Renzi e Salvini. Non temo. Un blitz del centrodestra. Così il segretario PD Enrico Letta in questa intervista a pagina 5, firmata da Stefano Cappellini. Noi però proseguiamo. Adesso andiamo con la prima della Repubblica Edizione Napoli. Trasporti, scuola, rifiuti. 2022, anno della svolta. Il sindaco Manfredi indica gli obiettivi. Giù i bipiani di Ponticelli. Rivoluzione nella Sia. Verde, 50 strade da asfaltare. 10 treni della metro in più. Interventi per i senza dimora. Cultura, bagnoli. E intanto allarme e criminalità. Il questore Giuliano. La camorra qui è problema strutturale. Il questore Alessandro Giuliano si è espresso così. E poi le due città, Napoli, povertà e lusso. Via Marina, coda per un pasto caldo. Via dei Mille, fila per i grandi marchi. E viene sottolineata in questo brillante reportaggio di Paolo Popoli questa discrepanza all'interno di una Napoli divisa tra ricchezza e povertà. E poi la lettera Palazzo Penne sarà recuperato con l'intera area. Il concerto, canzoni napoletane al maschio in gioino ma solo in tv. E poi i funerali a torre annunziata. Delitto morione. Il vescovo battaglia. Troppi silenzi. Il capodanno. Il cenone resiste nei grandi alberghi. Menù da favola ma anche disdette. E andiamo avanti ancora con un'altra prima ed è quella del mattino edizione nazionale. Anche in questo caso ovviamente il tema è quello del superpass. Via alla nuova stretta. La carta verde rafforzata, estesa anche a treni, autobus, fiere, piste da sci, alberghi e ristoranti all'aperto. Contatti compositivi. Niente quarantena per chi ha tre dosi. Capienza stadi ridotta al 50%. Palasport al 35%. La pandemia, le variabili delle varianti e la certezza del vaccino. E poi il retroscena. Novax Draghi impone il rigore. La Lega si divide. Poi passa il rinvio. Le ordinanze. In campagna. Escalation di contagi. I rivieti. De Luca si affida ai sindaci. E poi le speculazioni. FFP2 scatta la tagliola sui prezzi. Ma occhio al certificato europeo. In taglio centrale. Emergenza e concorrenza dello streaming a Natale. Crollo storico. Il buio. In sala. In sala. E anche il cinema. Paga Dazio per quella che è la coda lunga di questa emergenza pandemica. Lavoro. Il certificato. Ora va esteso a tutti. L'intervista a Renato Brunetta. Mai più smart working di massa per gli statali. La battaglia si vince solo a colpi di vaccino. Il retroscena. Mattarella rinchiude al mandato bis. Il retroscena nel messaggio appello ai partiti. PNRR e unità. Punto di Vespa. Colle. Se Berlusconi fallisse il centrodestra nel Baratro. E poi dopo la riflessione di Bruno Vespa. La scuola. Maturità 2022. Si cambia. Riecco il tema di italiano. Ancora. Taglio basso. Pupetta Maresca. Prima donna Boss. La camorra. Morta 85 anni. Su di lei. Anche una fiction. Il Vescovo di Aversa. Spinillo. Clan in onore di Dondiana. La chiesa ora torni in strada. Andiamo avanti. Altra prima. Altra prima pagina. Ed è quella del mattino. Edizione Napoli. In taglio centrale. Effetto feste. Contagi più 10%. Impennata. Chiaia. Posillipo e Vomero. In crescita anche San Carlo. All'Arena. 456 casi. I dati. I quarantenni più colpiti. L'infettivologo Perrella. E la conseguenza di shopping. E serate nei locali. I ristoranti. I cenoni. Raffica di disdette. Cin cin a casa. E poi. I funerali del pesci vendolo. Il vescovo. Assassini. Consegnatevi. Ucciso dai rapinatori. L'urlo di Don Mimmo. E allora. Direi che è il momento. Di una seconda pausa. Con la nostra rassegna. Perché. Su questa notizia drammatica. Andiamo a fare un altro approfondimento. E il servizio è firmato in questo caso. Da Paola Iandolo. Applausi. Dolore e lacrime. Migliaia. Le persone che hanno voluto dare un ultimo saluto ad Antonio Morione. Il commerciante di pesce di Torre Annunziata. Ucciso dai rapinatori. Nella sua pescheria di Bosco Reale. La sera del 23 dicembre. La folla. Atteso che il feretro passasse davanti la sua pescheria. Poi tutti in chiesa per il rito funebre. Ufficiato dal vescovo di Napoli. Don Mimmo Battaglia. Lunga l'omelia dell'arcivescovo. Che più volte ha ricordato di essere stato già un'altra volta. Nella chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata. Per un episodio simile. L'uccisione lo scorso aprile di Maurizio Cerrato. Colpito con modi camorristici. Da un comando di quattro persone. Per aver difeso la figlia. Che aveva parcheggiato su un posto autoprenotato. Quello di Antonio Morione è stato un delitto atroce e assurdo. Ha detto il capo della chiesa di Napoli. Il pianto aiuti questa comunità a mettere da parte diffidenza e rassegnazione. È arrivato il momento che la parte buona si faccia sentire. Ancora troppi silenzi ha continuato Don Mimmo Battaglia di fronte a questa morte. A mesi da quella di Maurizio Cerrato. Ed è necessario che la città si svegli. Poi l'arcivescovo metropolita. Ai killer ha detto il vero coraggio non è la fuga ma la consegna alla giustizia. E poi ha aggiunto affinché la morte di Antonio non cada nell'oblio dobbiamo impegnarci tutti. Antonio aiutaci a trovare coraggio affinché, ha concluso Don Mimmo, possiamo stare sempre in piedi. Il mattino edizione Avellino. Contaggi sfondata quota 700. L'emergenza, numerosi sindaci bloccano tutte le manifestazioni pubbliche per evitare assembramenti. Ancora un record di positivi in un solo giorno. Nel capoluogo registrati 117 casi. L'ordinanza festa ascolta gli ambientalisti e viete botti di capodanno. Poi vietate le visite dei parenti ai pazienti. Siamo al Moscati, due primari infettati a casa, sei impiegati. Poi assaltano il Bancomat, rubano 40 mila euro. Gesualdo colpo con l'esplosivo alla fidele della Biper. E poi il riesame di sequestro di beni per De Cesare. E ancora la solidarietà, boom di donazioni alla mensa dei poveri. Mentre in taglio alto andiamo a leggere anche altre notizie. Non c'è l'intesa tra D'Angelo e Avellino. Ancora per il rinnovo appuntamento a gennaio per un nuovo incontro. E poi l'esperto Storti, chi è vaccinato, non finisce in rianimazione. La campagna, terza dose, restano i disagi per le edizioni su internet. E andiamo avanti con un'altra prima ancora ed è quella della mattino edizione Benevento. Covid in apertura, la stretta di Capodanno. Mastella firma tre ordinanze, chiusure anticipate per bar e locali. Niente botti, vertice in prefettura. Varato il piano sicurezza, tor lontano, controlli intensificati, salute da tutelare. E allora, questa è l'apertura del mattino edizione Benevento. Ancora un altro servizio e andiamo a vederlo insieme. Alessandro Fallarini. 407 contagi Covid nel Sannio nelle ultime 24 ore. Un boom di contagi che per la seconda volta nelle ultime 48 ore sta facendo segnare purtroppo numeri record. E anche dall'ospedale Sampio di Benevento la situazione non è delle migliori. Ancora una vittima nei reparti Covid. Si tratta di un pensionato della provincia di Salerno e continuano ad aumentare anche i ricoveri che sono arrivati a 47. Nel pomeriggio vertice in prefettura, dove il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha annunciato la chiusura di tutti i bar e i locali, dove solitamente le persone si intrattengono anche per gli aperitivi. Dal 31 dicembre al 2 di gennaio. Chiusure per questi tre giorni dalle 22.30 alle 5 del mattino del giorno successivo. Bar chiusi, ristoranti, quelli secondo le prescrizioni possono essere aperti ma senza fare feste. 31 e 1 o 2 faremo chiusure lunghi i percorsi della Movida o dove c'è la Movida o dove c'è la Movida, non solamente al centro ma anche in altri punti della città. Mi spiace perché capisco le condizioni. È la cosa che chiede anche al governo di intervenire per dar ristoro. Restano invece chiusi fino al 10, gli asili nido e le ludoteche. C'è divieto dei fuochi d'artificio il 31, l'1. Chiuderò anche ludoteche e quanto altro fino al 10 gennaio. Gli asili nido anche di quelli privati. Poi vedremo il 10, il coordinato delle scuole. Ho sentito poco fa il sindaco di Caserta che annuncia che a Caserta sono mille i contagiati di Caserta città e quindi quasi zona rossa, anzi zona rossa. Ho parlato anche le autorità sanitarie nostre, anche noi andiamo. Se fosse stato il principio evocato l'anno scorso, saremmo anche in zona rossa già pure a Benevento. E allora io vi ricordo che il messaggio di fine anno del sindaco Mastella lo trasmetteremo in diretta a partire dalle 13, ma continuiamo con un'altra prima ed è quella del mattino edizione Salerno. Ascoltavamo anche dalle parole del sindaco di questi dati allarmanti che sono propri a noi di tutta la campagna, oltre che dell'Italia. E allora anche Salerno, il mattino Salerno, titola sui contagi, battuto ogni record. Pensate in un giorno a 1543 positivi, il Tribunale del Malato potenziare le usca per salvare gli ospedali. La pandemia, meno caos nei centri vaccinali, ora è sotto accusa l'hub dei tamponi, insufficiente e irraggiungibile. La sicurezza, aggressioni sugli autobus, telecamere per difenderci e poi tra Agnello e Tedesco spunta un imprenditore partenopeo. Parliamo della Salernitana, due offerte e l'alternativa solista. Il destino dei Granata che si decide entro il prossimo 31 dicembre, entro domani capodanno. In tono minore, alberghi e bed and breakfast semivuoti, effetto Omicron, prenotazioni cancellate, zero nuove richieste, il turismo negli hotel, prenotate solo quattro camere su dieci. L'economia del mare, Green Ocean al porto, la linea diretta con la Cina. E poi la nostra Madonna per Papa Francesco, l'evento, l'icona di Costantinopoli, in diretta mondiale da San Pietro. E poi la tragedia, le cento mani degli amici per l'addio a Pierpaolo, l'urbanistica, tabacchifici della Piana, recupero quei fondi PNRR. E andiamo avanti con l'ultima prima, che è quella delle cronache quotidiane online del direttore Tommaso D'Angelo. L'apertura è relativa alla Salernitana. Tutto in 24 ore, oggi sarà la volta buona, dopo Di Silvio anche la cordata di Rispoli ha inviato la PEC e il relativo bonifico. I trasti chiamati a decidere. Agnello conferma, noi ci siamo, attesa per l'inoltro di Tedesco e Orlando, lo tito pronto a bloccare il campionato. Presentate due offerte vincolanti, ora il preliminare. Finanza.tech, la prima società di Salerno quotata in borsa. Finanza.tech, abbiamo capito come mettere in contatto imprese con investitori. Nicola Occhinegro, fondatore e amministratore, racconta il risultato raggiunto sbarcando a Piazza Affari. E noi abbiamo concluso la parte dedicata ai quotidiani cartacei e possiamo dedicarci al web con il nostro portale 8pagine.it, già in corso d'aggiornamento. Tutto in apertura, Ariano Irpino, trovato morto nel letto di casa a soli 29 anni. Il tampone è positivo. E allora andiamo a leggere nel dettaglio con il nostro Gianni Vigoroso questa notizia, caricamento alla mezzanotte 31 di quest'oggi, dolore sconcerto ad Ariano Irpino, una morte davvero assurda e ingiusta. La sottolineatura del nostro Gianni Vigoroso. Vado a riposarmi un po', non mi sento bene, o qualche decimo di febbre. Sono state queste le ultime parole rivolte alla madre e da allora Michele, di solo i 29 anni, non si è più svegliato. Quando la donna si è recata nella stanza del figlio per verificare le sue condizioni, l'ha trovato purtroppo privo di vita nel letto. Inutile, si è rivelato ogni disperato tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, sottoposto a un tampone da parte del medico legale Carmen Semente, è intervenuto sul posto insieme ai carabinieri. Presente il lungo tenente Giovanni Castiello è risultato positivo al Covid-19. Il giovane era vaccinato con due dosi, una tragedia inaspettata, una morte assurda e ingiusta. e ovviamente, a prescindere dal Covid-19 e dai tamponi, sarà l'autopsia eventuale o in ogni caso gli approfondimenti del medico legale a capire le cause di questo decesso. E poi appalto, autostrade, ordinanze annullate, liberi rillo, bargone, venturi e voci, la decisione del riesame, atti trasferiti a Roma per competenza territoriale, sempre in prima, Covid-19, 407 nuovi contagi, ecco l'ordinanza per bar e locali di Benevento, il sindaco Mastella lo abbiamo ascoltato prima ai nostri microfoni e poi tante notizie arrivano dalle varie sezioni provinciali, Salerno, accordo prefettura sindacati, telecamere a bordo dei mezzi pubblici, dopo l'escalation di violenze occhi elettronici per i bus, i lavoratori sono stanchi di subire. Poi, attualità, a Navellino, sui bus con Green Pass e mascherina FFP2, aere intensifica e controlli. Negli ultimi 15 giorni, 20.000 le verifiche ai passeggeri. E poi, il Covid avanza anche in costiera, nuova stretta, minori, eventi annullati, evitato l'utilizzo del centro anziani e del palazzo delle arti, reale, sacrifici indispensabili. E poi, Covid, contagi in carcere, Ciambriello, emergenza campana, fate presto, il garante dei detenuti si appella alla politica. Ancora, Covid a Benevento, arriva alla stretta per barre locali, a breve l'ordinanza, e l'abbiamo detto, poi è stata anche pubblicata questa ordinanza. E allora, andiamo a navigare sezione per sezione. La vedete in alto, anche con l'ausilio dei vostri dispositivi mobili, è facile navigare all'interno di ottopagine.it con i dati sul Covid, oltre 619.000 vaccinazioni, tra cui 557.000 prime dosi, i dati aggiornati allo scorso martedì e sono ancora in corso di aggiornamento con il report relativo alla giornata di ieri che arriverà a breve. E poi, Draghi incontra Scholz, accelerare l'integrazione europea, questa è una notizia della sezione mondo. e poi Covid-19 in Campania, 9.802 nuovi positivi, sono 11.379 tamponi processati, 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. E poi, la sezione Avellino, di ottopagine.it, abbiamo detto di questa tragedia in corso di accertamento delle cause ad Ariano Irpino, trovato morto nel letto di casa a soli 29 anni, e poi Covid-19, i sindaci chiedono più controlli e orario prolungato per i vaccini. Il prefetto spinge sulle ordinanze contenitive. Mentre a Benevento, in apertura, c'è la questione dell'appalto autostrade, ordinanza annullata, Liberi Rillo, Bargone, Venturi e Voce, poi Mastella, Stoppa e Nidi, Ludoteche, Scuole dell'infanzia, fino al 9 gennaio. Da Benevento, siamo ora su Caserta, dove aumentano i casi di Covid-19 tra detenuti e poliziotti penitenziari. Il dato è in generale quello della regione Campania anche. E poi, Cia Campania, chiede la proroga della stagione venatoria per i cinghiali, e poi da Caserta a Napoli, lo scheletro del cavallo rinvenuto da Maiuri nel 1938 in fase di restauro. Nuovo allestimento in sito con un modello 3D. E poi, ancora, la sezione Napoli, un ulivo per Michael Giuseppe Russo, l'iniziativa a Forcella in ricordo delle vittime innocenti della criminalità. La sezione Salerno, accordo tra la Prefettura e i sindacati, telecamere a bordo dei mezzi pubblici, mentre Capodanno e le porte, l'appello di EMPA, noi botti, tuteliamo gli animali. Roberta Teti, Vice Caponucleo EMPA Salerno, un'usanza pericolosa per l'uomo, animali e ambiente. E ancora, nella prima pagina del nostro portale, andiamo a leggere altre notizie relative alle aree tematiche che trovate all'interno di 8pagine.it. Covid, ieri abbiamo detto dei dati oltre 619.000 vaccinazioni in Italia, ieri inteso però come martedì, i dati sono in corso di aggiornamento e poi cronaca a Gesualdo, abbiamo letto anche i suoi quotidiani questo furto con esplosivo al banco VAT della B per Gesualdo, bottino da 50.000 euro, mentre clamoroso a Napoli, rubato nuovamente l'albero di Natale del Consiglio Comunale, l'amarezza del capo dell'opposizione, Catello Maresche, anche questa notizia trova spazio oggi nei quotidiani, sempre nella prima di 8pagine.it, andiamo allo sport, vedete tutte le sezioni, che è possibile leggere in successione, Monza, tamponi tutti negativi, dal 3 gennaio, allenamenti in vista del Benevento, via libera da parte dell'ATS per i piancorossi, sapete, del rinvio della gara con il Benevento a causa del Covid, situazione che va migliorando e dunque, sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri dal Monza, prossimo avversario del Benevento nel recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie B, il match è stato rinviato a causa della presenza di cinque elementi del gruppo Sbrianzolo affetto da Covid, tanto che l'ATS locale aveva imposto la quarantena a tutti i tesserati, vietandogli la partenza per il sannio e quindi, non sono emerse nuove positività e si potrà giocare, salvo nuovi colpi di scena, il 13 gennaio alle 20 e 30 sul manto erboso del Vigorito. Possiamo rientrare in studio, vi ricordo che l'appuntamento con la nostra informazione torna alle 14 con il TG News regionale, alle 14 e 30 il TG Sport e alle 13 il messaggio di fine anno dal sindaco di Benevento Clemente Mastella. Per ora è tutto, non mi resta che augurarvi buon inizio di giornata e buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.